L'estensione del ghiaccio marino antartico ha raggiunto quest'anno il suo valore più basso per il mese di luglio e il 7% inferiore alla media dei 44 anni di dati satellitari monitorati. Lo rileva il Copernicus Climate Change Service, che pubblica bollettini climatici mensili, integrato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione Europea. Per Copernicus le masse continentali dell'emisfero settentrionale rilevano per lo più temperature ben superiori alla media.